La lotta al covid e non solo quella ha ora 17 alleati in più. Tanti i posti letto in terapia intensiva che questo weekend sono stati aggiunti all'ospedale San Salvatore nella Palazzina F. Le Marche trovano dunque a Pesaro una valvola di sfogo per allentare ulteriormente lo stress ospedaliero regionale e Pesaro si avvicina a permettere il rientro regime di cardiologia che da marzo era stata trasferita a Fano. Marche Nord è il primo ospedale a recepire il decreto Arcuri che incrementa ora a 237 i posti di terapia intensiva a disposizione del servizio sanitario regionale. Oltre a migliorare l'assistenza ai pazienti ora si può anche diminuire il parametro con cui si calcola l'indice RT per la classificazione delle regioni nelle zone gialla, arancione o rossa. A tal proposito l'ultima settimana ha registrato un positivo calo dell'8% dei ricoveri. Per quanto riguarda invece i nuovi contagi come ogni lunedì è più bassa la cifra di tamponi processati 2.976 di cui 1.862 nel percorso nuove diagnosi. I positivi riscontrati sono 200 di cui appena 28 nella provincia di Pesaro Urbino. 9 i deceduti nella giornata di ieri per una regione Marche che da inizio pandemia ha pianto 1.890 morti contagiati dal covid-19.